Nelle precedenti puntate abbiamo conosciuto il pensiero politico della corrente storicista con Machiavelli, Guicciardini e Botero. Abbiamo visto che lo storicismo attingeva dallo studio del passato per trovare la forma politica migliore per il presente. Oltre allo storicismo c'è stata anche un'altra corrente durante l'umanesimo che viene chiamata giusnaturalismo. Il giusnaturalismo trae le sue origini dallo stoicismo e ha come obiettivo quello di capire per quale motivo lo Stato esiste, qual è la sua natura, cosa serve lo Stato. Il giusnaturalismo vuole quindi riportare la comunità politica al diritto naturale. Gli esponenti principali di questa corrente sono Thomas More, Jean Baudin, Alberico Gentili, Johannes Altusius e Ugo Grozio. Iniziamo con Thomas More che in Italia viene anche chiamato Tommaso Moro anche se il suo vero nome era Thomas More, visto che è stato uno statista e un letterato inglese vissuto tra il 1478 e il 1535 durante il regno di Enrico VIII. Oltre al suo pensiero politico Tommaso Moro fu famoso anche per essersi opposto alla volontà del re Enrico VIII di divorziare dalla moglie Caterina d'Aragona per sposarsi con Anna Bolena. Per questo motivo fu condannato a morte, proprio perché era andato contro il volere del re. Le idee principali di Tommaso Moro sono esposte in quello che è considerato il suo capolavoro, intitolato Utopia. Utopia è una sorta di romanzo filosofico dove Tommaso Moro sogna uno stato perfetto, utopico per l'appunto, guidato dalla ragione e lontano dalla politica e dalla società inglese del suo tempo, che critica aspramente. Secondo Tommaso Moro la società deve modificarsi radicalmente a partire dal suo ordinamento sociale. Ecco le principali caratteristiche sociali e politiche dell'isola di Utopia. Nell'isola di Utopia non esiste la proprietà privata e la terra viene coltivata a turno dagli abitanti. Inoltre oro e argento non hanno alcun valore e vengono utilizzati come utensili per costruire strumenti umili e utili per la popolazione. Ogni abitante dell'isola ha un proprio mestiere che svolge per sei ore, per poi dedicarsi al divertimento e allo studio, perché la cultura è utile a tutta la comunità, in modo particolare le scienze e la filosofia, così come anche la religione, che è fondamentale nello stato di Tommaso Moro, perché la ragione da sola non è in grado di condurre l'uomo alla felicità. A tal proposito la religione è importante, ma nella sua isola esiste la tolleranza religiosa, perché appurato che tutti riconoscono l'esistenza di un dio creatore del mondo, è però anche vero che ogni abitante può decidere di venerarlo come crede. In ultimo, nell'isola ci sono i magistrati chiamati sifogranti, che vigilano sugli abitanti affinché non ci sia gente che ozia. Passiamo ora velocemente a parlare del pensiero politico del francese Jean Baudin. Secondo Baudin, lo stato deve avere un sovrano con poteri illimitati, soggetti soltanto al volere di Dio e della natura. Anche Baudin, come Moro, difende la tolleranza religiosa, perché tutte le religioni hanno una base comune e razionale, e questo fa sì che possano coesistere diverse manifestazioni religiose, senza contrasto alcuno. Infine, secondo Baudin, la guerra è un particolare stato in cui vengono sospesi gli accordi tra gli stati, ma dove però non devono mai venir meno le leggi fondate sulla natura umana. Di Alberico Gentili è importante l'opera Il diritto della guerra, dove sostiene che la guerra sia giusta perché conforme al diritto naturale, ma solo ed esclusivamente quando serve a difendersi. Le guerre di religione invece sono sempre ingiuste, perché nessuno può obbligare un'altra persona o un altro popolo a professare un determinato credo. Passiamo ora velocemente a Ugo Grozio, olandese vissuto tra il 1583 e il 1645. La sua opera principale è intitolata Il diritto della guerra e della pace. Secondo Grozio, il diritto naturale, si basa sulla natura razionale dell'uomo, che fonda uno stato attraverso un patto tra il sovrano e i suoi sudditi. In questo caso Dio è lasciato da parte, perché secondo Grozio lo stato si crea attraverso un patto che il sovrano stipula virtualmente con i suoi sudditi. Anche la religione, esattamente come il diritto naturale, è fondata sulla ragione ed è costituita da quattro principi. Il primo è che Dio esiste ed è uno. Il secondo è che Dio non è le cose visibili, ma è oltre le cose visibili, è superiore ad esse. Il terzo è che Dio è il governante e il giudice di tutte le cose umane. Il quarto è che Dio è il creatore e l'artefice di tutte le cose naturali. Ci vediamo nella prossima puntata per parlare di altri autori del Rinascimento.